Chiudiamo così in famiglia la settimana di avvicinamento ai playoff. Da venerdì il gruppo squadra sarà concentrato su un unico obiettivo, finire al meglio il campionato e farlo il più tardi possibile. Ci mancherà il vostro calore dagli spalti ma non il vostro affetto, vi sentiamo vicini e con il vostro supporto niente è impossibile. E' questo il messaggio che accompagna la foto postata dal profilo ufficiale dell'US Avellino, che ritrae la squadra in posa a casa del presidente D'Agostino dopo aver cenato tutti insieme. Un'instantanea del momento dei lupi, che fa piacere riscontrarlo, si ritrova in armonia prima di un appuntamento importante. Quella che sta per terminare infatti è stata una settimana decisiva, centrale per gli allenamenti dopo un lungo stop. Oggi riposo e tamponi ma da domani testa di nuovo alla post-season. Ezzolino Capuano non perde tempo ed ha già messo nero su bianco possibili schemi e formazioni adattabili a due differenti avversari. Dietro la porta ci sono Ternane e Calanzaro, due squadre diverse, terreni di gioco diversi e diverso approccio alla gara. Per il tecnico di Pesco Pagano il lavoro dunque sarà complesso. Quel che resta imprescindibile è la difesa a tre. Fulcro delle idee dell'allenatore potrà essere dunque o un 3-4-1-2 o, differentemente, un 3-4-3, molto dipende da chi si troverà di fronte. Dunque, Ianes, Bertolo e la Ezza Centrale potrebbero essere le certezze. A centrocampo, Seliac a destra e Parisi a sinistra. Di Paolo Antonio in regia, Izzillo e Micoschi a sostegno di uno tra Pozzebon ed Albadoro. Questo in caso l'avversario siano le fere. Se la trasferta sarà calabrese, Ferretti potrebbe fare al caso di Capuano, trasformando l'attacco con il duo Albadoro-Pozzebon. Tutte ipotesi con l'unica vera certezza di vedere tonti tra i pali. Dopo il forfei di Dini, infatti, resta questa la scelta obbligata del tecnico. Siamo tutti con te, siamo tutti con te, siamo tutti con te, siamo tutti con te, Adrenadini a lei.